Fermi! Pensate che sia solo lo spacchettamento, invece no. C'è un giveaway in corso da 30.000 crediti, sarebbero 30 Rocket Pass per la nuova stagione di Rocket League. Quindi nel link in descrizione trovate il link per partecipare al giveaway tramite Instagram. Mettete 30 secondi, partecipate, mi raccomando, buona fortuna a tutti quanti, registrazione, trovate tutte le informazioni in quel link. Non potete fare domande, c'è scritto tutt'la, aperto a tutti per tutte le piattaforme. E in più, stasera, spacchettamento da 1.600.000 punti torneo. Più un'altra sessantina di ritrovamenti, abbiamo delle palle d'oro che non so cosa siano perché sono da mesi e mesi che ce l'hanno, non lo so. Spacchettiamo stasera, quindi partecipate al giveaway e mi raccomando, vi aspetto per questo grande spacchettamento dell'anno. Bacione e guardatevi questo grande video anche. Ragazzi, è contenuto per YouTube, mannaggia la misera, c'erano bei discorsi in ballo. Stavamo parlando di 2007, di maggiorelli, di minorelli, di tutto, stavamo parlando qua, mannaggia. Con un contenuto per YouTube che interrompe discorsi molto accesi. Dobbiamo fare il culo a campione del mondo, scrub kill, dai. Il mio compagno, secondo me, aspetta, non ricordo male, qualche caspita e qualche ok, lo mina. Quindi, se giochiamo male, ci abbiamo comunque da fare due risate. Attenzione, bam! Palo rip. Andiamo dietro. 100 di boost. Con molta, molta calma. Aspettiamo scrub kill. No. Attenzione, feitan. Bravo. Dai. Scrub kill, vatti a fare una doccia. L'alziamo con calma. Vieni qua. Ehi! Gabonia. Io ve lo dico, questa prendiamo uno di quei cazzoni. Scrub kill è troppo forte. Per ogni quelli che si lavava di meno. Ripa, la SSS, ma la Stop Sex September è diversa. Droppa. Uuuuh, madonna, l'avevo così letta e vabbè. Rip, feitan, ragazzi, si è scavato la fossa. Ha fatto un fake challenge inutile. Madonna. È un pazzo, raga. Beccati questa giocatina, pichi. Eh dai, pichi, fatti i fatti tu, mamma mia. Occhio, scrub kill. No. Ho sbagliato. Mamma mia, pichi. Che fine devi fare. Attenzione. PEM! Tocco forzato, attenzione. Vabbè, uniamo a... Mannaggia la mia... Feitan, sei un folle. Madonna, è un folle questo. Attenzione, scrub. Non mi fare il reset, ti prego. Codo. La parata del King è sempre facile. Attenzione, 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 attenzione. Piano. Fuori facile. Contro il palo, feitan, godo. Va bene, ma è una macchina di sugirarsi. Andiamo dietro, piano, 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 piano. Feitan, far una zero. Scriviamo a beltire e guardiamo le ore di gioco di Scrabilla. Su me è un'ottantina, non di più. Ah, 12.000 ore totali. Vabbè, dai. Non gioca tanto ultimamente. Penso che abbia nerdato negli anni precedenti. Occhio alla botta. Occhio alla botta. Il cofino. No, avrei voluto godere. Peccato. Allora. Ce l'ho easy. Madonna come godo. Dai, killa, vieni qua. Ah, questo. Ci penso io? No, c'è Feitan che si fa saltare. Ah, ok. Veramente si fa saltare. Madonna, mi sono incartato con le mani. Attenzione. Il club killa va a dormire. Pensa veramente di superare il king così. Non è capito proprio nulla. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Eh, 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 eh. C'è la miseria. Andiamo dietro. Con calma. Grande Feitan. Mannaggia. Attenzione. Vabbè. Mi stanno sdrumando. Madonna. Piki, me la passi, per favore. Grande. Attenzione, attenzione. Attenzione. Passaggio incredibile. La chiude. No, Piki. Gula mamma a metà. Eee. Vabbò, dai. Abbiamo capito chi è che non si è lavato. La puzza è proprio dalla sua macchina, dalla sua Octane. L'unica Octane, quindi per forza è stato il suo, il cattivo odore. Oh, che sta a prendere il cazzone, eh. Eh, eh, eh. Facile. Eh. Occhio. Questo è pericoloso, scrub, da qualsiasi posizione. Una sword. Non aspetta questo liscio con tanto di ghost hit. Grande Feitan, però io il boost purtroppo non ne ho tanto. Mamma che tocco, inutile. Attenzione. Attenzione. Eeeh. Finta. No boost. Occhio Feitan. Finta anche questa. Godo. Attenzione. Attenzione. Colpa mia. Colpa mia, colpa mia, ragazzi. Colpa mia, nessun problema. Ok, va bene, va bene. Nessun problema. Lo scrivo anche io, per cui l'ha scritto colpa mia. Quindi, punto esclamativo, sogno. No, peccato. Aspettiamo un attimo con calma di avanzare, piano. Bam, bam, fangu. Io sta parlo domani. Andiamo dietro. Attenzione. Palla critica. Buttiamola. Eeeh. E dooooi. Mamma mia, scrub. Cosa combini. Bravo Feitan. Ragazzi, vorrei piangere. Non ho boost. Ok. Non neanche il boost per piangere. Mettile in mezzo. Corri, corri. Mettile in mezzo. Fai l'altruista. Eh, allora. Sorry. Pensavo che me la volessi passare. Sorry. Eh, vabbè. Non so manco se... Vabbè, pensi che sarebbe entrata. Non lo so. Ah, sì. Vabbè. Vabbè, ragazzi, ero rip. Pensavo non ce l'avesse l'angolo. Pensavo questo imbassaggio. Gli ho chiesto scusa. Dai, rip. Beccati questo. Dai, abbandonate. GG. Ragazzi, questi contenuti guardate in live tutti i giorni su Twitch. Nei link in descrizione trovate tutto. Poni orari nell'abbio. Quindi per sapere tutto, ma direttamente era l'abbio. Un bacione. Vi aspetto. Campione regionale RCS. Oddio. Oddio. Chi è questo? Allora, ve lo predicto. Questo pro player sarà il classico pro player. Tipo Oceania. Ste cose qua. Secondo me, o brasiliano, ma sicuro non è un pro player europeo. Ve lo dico io. Mo controllo il profilo. E portiamoci questo contenuto a casuccio. No, Jayden in squadra. Mannaggia. Però ce l'avevo contro una pipa allucinante. Dai fortissimo, Jayden. Come ti chiami, Sad? Brasiliano, lo sapevo. Palese. Ragazzi, contenuto contro un pro player brasiliano. E si gode, si gode, si gode. Allora, ci facciamo. Un no, ne followiamo al kickoff. Ci pensa Jayden a carriarci questa partita, me lo sento. Bravo, Jayden. Pinch. Eh, vabbè, ma che schifo. Vabbè, Sad mo salta il primo uomo, quindi va di aiuto al muro. Tanto qua, Giasca, ma fa una cagata. Miss, miss. Bravo. Il king c'è. Godo, lascia, lascia. No, nessuno sta pushando, vero? Che mi ci puoi usciare? Sei tranquillo, Sad, sei tranquillo. Mannaggia. No, ma lui non sta dal Brasile. Cioè, è brasiliano. Ho visto che mo sta di volere alle CS, LAN. Stanno tutti quanti i pro player qua. Quindi giocano tutti quanti dall'Europa. Per quello sta nei server europei con 12 di ping. Allora. Aspettiamo con calma. Vediamo un po' il signor Jayden. Sarà come tre in mezzo? Uh, la sorta. Manco posso bumpare, mannaggia. Ragazzi, ormai, ormai i pro player non possono fare nulla. Non possono fare nulla, ormai. Siamo incontrastabili. In realtà Jayden ce la sta carriendo, però va bene lo stesso. Allora, picco fino alla mia sinistra. No, mi sa che Sad fa la giocata e l'è finita. Attenzione. Non lo aiuto proprio, mo ci penso io. Ah, già scama questo, è bampato. Dile la verità. Dimmi di sì, che ti bampo. Però l'ho fatto leggermente in ritardo. Rip. Come la pushata di Jayden. Leggermente in ritardo. Perfetto. Non è un problema, ragazzi. Non è un problema. Uh, che misclick. Allora, seguiamo al kick-off. Vai, 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 vai. Ce l'ho? Pem. Guarda, guarda sto tiro. Pinta. Ecco, invece no. Scherzato. Ta minchia proprio. Piano, 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 piano. Vai, Jayden. Pensaci tu. Attenzione, attenzione. Il king c'è. No, non la prendere. Vabbè, ormai l'ha toccata. Devi rimediare. Attenzione. Signor Sad, ma tu vuoi essere anticipato il king? Non è capito niente, non è capito. Oh. Uno che falchetto. Scusi. Ma era da solo in difesa, già scama. Eri solo. Un pazzo. Colpa mia comunque questo gol. Non mi aspettavo a pusharsi davvero falco. Mamma mia. Sai come il caimano, stai. Non pusharmi, dai. BAM. E godo. 3 a 2. Dai, però possiamo iniziare a traguardare un pochettino. Con questo campione regionale RLCS che fai... Guarda, guarda che brutto che fai, dai. Pensa il king a sfondarti. Via. Già scama bocchini. Andiamo dietro, andiamo dietro. 100 per noi. Tanto questa ce l'ha easy il signor Sad. Lo anticipo io. Giocata alla just cam ha funzionato. La giocata era falchettino. Ho paura. Ho anche risciato il boost. Ottimo. Non redirettare. Fuori. Godo. Veloce l'ho, raga. Peccato che sta giocata la king. Doppia parata, godo. Boost mio? Non è spawnato. Non mi lasciare solo che non ho boost. Non mi lasciare solo che non ho boost. Bello questo pinch. Mamma mia, Jayden, com'è in forma quest'oggi? Ce l'ho, finta. E, 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 e. Uh, peccato, ve l'ho mostrato bene la web dash. Bella sta spazzata, piano. Ci penso io, con molta calma. E, 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 vieni, vieni. Infatti questo... Ma è già, scama. Falchettino bastardo. Andiamo dietro. Attenzione a Jayden, attenzione. Bravo. Veloce. Uh, la mamma, Jayden, immagino ad andare a prendere il boost invece di difendere. Mamma mia, Jayden, cosa sei però, eh? Lo devo dire. Ultimo. Sei un fenomeno. Fenomeno. Perfetto. 4 a 2 per noi. Seguiamo il kickoff. Vai, vai. Pinta. Sad, mi sa che non è tanto SSS. Cioè, boh. Forse in Brasile sono un po' più normali rispetto in Europa e in Nord America. Boh, dopo questo bump possiamo anche abbandonare, vero? Abbandonate. Basta. Non voglio più giocare contro di voi. Guarda questo bump. Eh. Godo. Ma purtroppo con il mio nome è normale vincere ogni partita. Ci facciamo. Un kickoffino alla mia destra. Godo. Dice Mula Sword. Bravo, Jayden. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Morto. Segnaliamo già Scama per questa esplosione. Perché ha scritto grazie? Il mio mate l'ha scritto adesso, eh? Forse è la cocco. Vabbè. Il dubbio occhio è la botta. Bravo, Jayden. No, raga, colpa mia. Colpa mia, colpa mia. Just Scama lo chiamavano il falchettino comunque in questa partita. Mamma mia. Cioè, io. Just Scama versione falco non l'avevo mai vista. Vado a vedere il profilo, quasi qua. Pinta. 12 ore giornaliere. Mamma mia, falchettino. Bravo, mate. Tossico! Eccolo! E anche in Brasile i pro player sono tossici. La SSS, la Stop Sex September. E scrive che è parata al proprio compagno. Grande sed. Simpaticissima, ragazzi. Ma di che parliamo? Di che parliamo? I pro player di qualsiasi nazione, di qualsiasi continente, sempre tossici in culo. Mamma, che tristezza, ragazzi. Che tristezza. Eccolo! Grande tiro di sed, eh? Un capolavoro. Mi ha bampato. Non ci posso arrivare. Dai, scrivo un'altra cosa. Eccolo che è parata! Bel tiro! Bello il flammone. Caspita, brasiliano. Ah, 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 ah. Olè! Caspita! Ma perché flammano? Ma che cazzo, pure il mio compagno, che cazzo flamma! Porco due. Che tristezza. Fa pure cagare. Mi associo a Kama. Olè! Resettino? No, che schifo. Ho fatto anche il double con reset. Andiamo dietro con molta calma. Però guardiamo le ore di Kama, scusami. Sono curioso adesso. Eh, non ce le ha visibili. Vuole nascondere qualcosa di brutto. Comunque è un simpaticone, Seth, devo dire. Vabbè, ragazzi. Si staranno flammando per iscritto, quindi si fa così. Pam! Pam! Ah, c'è Scamaggio. Ho lo signor sognato prima per il gioco, mi ricordo. Ok, ok. Eh, il potere del 2007 beneventane. Pinch, GG. E andiamo a casuccia. Un bacione, bene. Nel link in descrizione trovate sia il Twitch che tutti quanti i miei social. Vi aspetto. Un bacio. Però, solo estetica. Cioè, me cazzo me ne ho avuto di vedere l'orario. Yeah. Con 260 di ping riusciamo comunque a hittare questi capolavori che fanno capire chi è il king italiano di Rocket League. Purtroppo solo il king italiano.